Ciao, io sono Vittorio Podestà, un genovese, un chiavarese, ingegnere dal 2000, che nel 2002 ha avuto un'esperienza un po' diversa dalla media, ho fatto un incidente stradale tornando dal lavoro e che mi ha costretto su una carrozzina, però questo fortunatamente non mi ha bloccato e non ha frenato i miei sogni, anzi devo dire che mi ha permesso di riscoprire le mie passioni e farle diventare un lavoro, sono diventato un atleta anche di alto livello, ho partecipato a tre Olimpiadi, speriamo quattro prossimamente, ma soprattutto ha fatto in modo che le mie passioni per l'ingegneria, per la meccanica, per la bicicletta diventassero buona parte della mia esperienza di vita e hanno contribuito tantissimo ai miei successi sportivi, ma soprattutto a soddisfare come dicevo le mie passioni. Sono qui al Politecnico di Torino perché qui dentro ci sono progetti che hanno molto a che fare con queste passioni e mi piacerebbe collaborare con loro per il progetto Policumbent, pedalato con le braccia come io ho fatto negli ultimi 17 anni sui campi di gara. Ebbene, da quel 19 marzo del 2002 la mia vita è sicuramente cambiata, innanzitutto perché da in piedi mi sono seduto senza rialzarmi, però mi sono reso conto che la vita non era poi cambiata tantissimo, per fortuna perché la testa era quella di prima e anzi mi ha permesso di concentrarmi su cose che mi interessavano molto di più di quello che magari facevo prima. Io ero un ingegnere civile, avevo la passione per la meccanica, ma ad ogni modo avere studiato e soprattutto aver raggiunto una laurea mi ha tranquillizzato nel momento in cui sono rimasto senza gambe, quindi con la preoccupazione dell'occupazione lavorativa successiva. Ovviamente se avessi fatto un lavoro per quanto nobile, ma che avrebbe avuto bisogno delle gambe, sarebbe stato sicuramente molto più complicato per me anche dal punto di vista mentale. Invece ho continuato la mia attività di ingegnere, però pian pianino ho riscoperto lo sport agonistico, io non sono mai stato un grande atleta prima, ma cimentandomi nell'handbike ho trovato sicuramente degli stimoli sportivi notevoli, ma nel mezzo a tre ruote, pedalato con le braccia, ho trovato anche il modo di sfruttare le mie conoscenze per migliorare questo mezzo e farlo crescere insieme alle mie performance sportive e quindi contribuire innanzitutto ai miei successi nei campionati del mondo. Ho vinto otto titoli mondiali, di cui cinque individuali e tre squadre, ho partecipato a tre Olimpiadi e vinto sei medaglie, di cui le ultime due a Rio d'oro, ma sicuramente la mia vita sportiva è allargata alla questione tecnica perché sono anche diventato progettista dei mezzi che utilizzo e quindi ho la fortuna di poter essere designer, collaudatore e anche l'atleta che poi porta al successo i mezzi che progetto. Il messaggio che vorrei lanciare a tutti gli studenti, in particolare di ingegneria, visto che sicuramente c'è il fatto che la benoscelta hanno affinità simile alle mie, è quello sicuramente di continuare a pensare al futuro, non limitando le proprie passioni, ma anzi cercare di coniugare le conoscenze che si acquisiscono con le proprie passioni perché questo è il motore più grande che moltiplica le energie e diminuisce i sacrifici che si fanno sia nello studio che poi nel lavoro.